Buongiorno. 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 Che bello il zampetto di maiale bullese. Il zampetto di maiale bullese è una leccosnia. Perché in Toscana non è che siamo conosciuti ai massi. Da Napoli ci sono i banchini dove sono tutti questi in chiesa. Ci sono tanti pezzi di maiale che mangiano come se mangiate le lecca lecca, le caramelle. Sono fatti gli zampetto di maiale bullese. Il zampetto di maiale bullese è un ventolone, carota, sedame, cipolle, zampetto dentro, tanta acqua, sale, peppa, un paio di cucetio, un po' d'oro, uno e mezzo o due di cottura. Quello zampetto è al basso. Buongiorno. Fantastico.